I nove indagati, quattro dei quali sono stati portati in carcere, sono accusati di estorsione, furto aggravato, riciclaggio e favoreggiamento. Fanno parte di una banda specializzata in furti negli appartamenti. Le indagini dei carabinieri sono iniziate a dicembre del 2020 dopo un raid in una casa nel centro di Carini. I ladri portarono via 100.000 euro in contanti e gioielli e orologi per un valore di 60.000 euro. La banda andò a colpo sicuro, sapeva che nella casa era custodito un tesoro. Ma non è l'unico colpo contestato al gruppo. I militari ritengono che le stesse persone siano state protagoniste di altre rapine avvenute a Palermo, a Montelepre e ancora a Carini. I banditi avevano a disposizione alcune armi e potevano contare anche su valide informazioni relativamente agli obiettivi da colpire, visto che riuscivano a portare a termine colpi sempre molto remunerativi. Grazie a tutti.